E' pro mundi vita del reparto d'ossilio la portantina vincente dei Pasquali di Bormio, la tradizionale parata dei carri allegorici a significato religioso che si svolge ogni Pasqua nelle vie del centro storico della magnifica terra. Con i suoi 1175 punti, la portantina capitanata da Denis Santognoni e Davide Pedrini ha avuto la meglio sulle altre 19 in concorso, che con i corrispettivi contradaioli vestiti rigorosamente in abiti tipici, ha sfilato da Piazza Quintalpini fino a Piazza del Quercio, tra centinaia di persone che non hanno voluto perdere questa straordinaria tradizione religiosa. Una consuetudine che fonda le sue radici fin dall'Ottocento, ha spiegato la voce della manifestazione Domenico Carredu, che nonostante il passare degli anni si arricchisce di edizione in edizione. Io credo che questa tradizione, se quando il giorno di Pasqua vediamo tanti bambini e tanti bambini a sfilare, credo che i Pasquali, questa grande tradizione rimanga a lungo, perché questo fa parte della cultura di questo paese. Alle sue parole hanno fatto ecco quello del presidente dell'Associazione delle Parti di Bormio, Simone Schiantarelli, che è salito sulla torre di Piazza del Quercio per far suonare per l'occasione le famose campane della Baiona, ha sottolineato gli ingredienti che fanno dei Pasquali una tradizione unica. Sicuramente è lo spirito di aggregazione dei giovani che fa sì che riescano a ritrovarsi fin dai mesi di gennaio per iniziare i loro lavori e poterli finire entro la Santa Pasqua. Lo spirito di aggregazione è unito al fatto di riuscire a sistemare, creare nuove e sempre più competitive portantine per uno spirito che comunque ha sì il gradiente della socialità ma anche della competizione appunto e esiste veramente tra di loro la voglia di primeggiare con i propri manufatti. Opere monumentali in legno, curate in ogni minimo dettaglio, abbellite con ciò che può offrire la natura di montagna, hanno ancora una volta stupito e fatto riflettere. Il caro dei vincitori ha scelto come simbolo l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo osservando così l'umanità. Un Pasquale hanno scritto ai promotori che diventa messaggio di speranza, vivere insieme a Cristo ogni giorno, nutriendosi dell'Eucaristia, testimoniando così al mondo che soltanto coloro che seguono umilmente Gesù Crucifisso e Risorto avranno la pienezza della vita per sempre. Insieme a Promundi Vita sono saliti sul podio anche Illuminati da Te del reparto d'Ossorovina con 1.164 punti e commuoversi del rione di Combo con 1.125 punti. È stato proprio il reparto di Combo a smancare il botteghino nella speciale classifica delle parti che ha schierato 7 importantine con 3.015 punti complessivi davanti al Maggiore, Buglio, Dossiglio e Dossorovina.